È fuori di dubbio che nelle ultime settimane Simona Ventura abbia vissuto importanti cambiamenti, non solo a livello personale ma anche professionale. Da pochissimo, infatti, è stato ufficializzato l'addio a Mediaset da parte di Super Simo. Dopo che è stata confermata la sua presenza a The Voice of Italy, è apparso chiaro che il rapporto col Biscione era oramai finito. Frecciaro l'ha rivoluta su Rey 2, e l'avventura ha così salutato tutti al Biscione, nessuno però a quanto pare si sarebbe strappato i capelli. Il DG dei palinzessi a il messaggero ha commentato Temptation Island VIP le era venuto bene ma è la legge del colcio a mercato. A questo punto chi la sostituirà? In Lizza, Bisciglia, Barbara D'Urso che condurrà 5 programmi nel 2019 oppure Benar Rodriguez. Grazie a tutti.